Perché devo preoccuparmi di Malpensa? Nel senso che Malpensa nel piano nazionale degli aeroporti è definito come un aeroporto strategico di grande importanza. Mi auguro lo sia, nel momento in cui si vuole rilanciare l'attività. Ho letto oggi sui giornali che Etihad ha intenzione di fare concorrenza a Lufthansa. Intanto mi auguro che sia l'Italia che torni a fare concorrenza con questa partnership, a fare concorrenza al mondo, non a Lufthansa. Torni ad essere protagonista nel mondo, questo è quello che mi auguro. È chiaro che un momento di rilancio complessivo non può che vedere protagonisti i nostri grandi aeroporti internazionali. Ovviamente Fiumicino, ma poi penso a Malpensa come uno degli elementi strategici. Il governo su questo si è impegnato nel piano nazionale degli aeroporti a collegare con l'alta velocità gli aeroporti internazionali. E quindi a dare un segnale molto importante di rilancio dell'infrastruttura aeroportuale aprendosi al mercato. Grazie. Grazie.